Amici del software libero open source a cui piacciono i fork, benvenuti o bentornati in questa sessantasettesima puntata del podcast di Marcos Box. Iniziamo questa mini puntata, mini perché non ci sono molti argomenti, partendo da uno degli argomenti più discussi negli ultimi sette giorni. Sto parlando del caso Brave Browser. Di questo browser web ve ne ho parlato anche io in diverse occasioni per via della sua particolarità. La peculiarità risiede nel ricompensare utenti e creatori di contenuti per la visione di annunci pubblicitari mirati all'interno del browser. Questi annunci sono opzionali e la ricompensa per gli utenti e creatori di contenuti avviene sotto forma di una criptovaluta chiamata Basic Attention Token per gli amici BAT. Non vi nascondo che anche io, sotto consiglio di alcuni lettori, mi sono iscritto al circuito dedicato ai creatori per testare il tutto e vedere magari di riuscire a tirarci su qualche soldino. Fino adesso meno di un euro. Bene, che cosa è successo? Yannick Ekl, un esperto di criptovalute, ha scoperto che Brave Browser dirottava alcuni link di ricerca aggiungendo un proprio codice di filiazione subito dopo il link, subito dopo la nostra ricerca. Il tutto in maniera automatica e senza avvisare gli utenti. Questa cosa, come è riuscito ad aspettarsi, non è piaciuta agli utenti che hanno inviato discussioni praticamente in ogni social conosciuto, Reddit, Twitter, Facebook e quant'altro. Bene, subito dopo questa segnalazione, Brendan Eick, il CEO, nonché cofondatore di Brave, ha ammesso il problema definendolo però un errore non voluto. Subito dopo sono arrivati gli scusi ufficiali sul blog ed il codice di Brave è stato modificato ed ora il comportamento predefinito della funzionalità di comprendimento automatico con i siti suggeriti è impostato su OFF. Quindi di fatto adesso quando noi andremo a cercare su determinati, mettendo l'UR di determinati siti, che sono siti che si riguardano sempre la sfera delle criptovalute, non verrà più aggiunta per comportamento predefinito il codice di filiazione se noi non lo andiamo a abilitare nuove impostazioni. Quindi, spetterà tutto a noi. A mio avviso si tratta di una grave mancanza di trasparenza, soprattutto considerato il pubblico al quale Brave è indirizzato. È lecito guadagnarci su, ma bastava avvisare tutti gli utenti prima, senza inserirlo in questo modo, senza poi, fra l'altro, impostarlo come un comportamento predefinito. Dopo questo scandalo, la comunità open source ha reagito nel suo modo predefinito ed è nato un fork di Brave Browser chiamato Braver Browser. Tropper, scommetto che non avete capito niente. Bene, questo nuovo fork di Brave Browser, che ha come mascotte un tasso, ha come unico obiettivo quello di rimuovere da Brave Browser tutte le funzionalità incriminate, tutte quelle che sono riconducibili appunto alle peculiarità di Brave Browser. Quindi, via Brave Rewards, via Brave Together, via gli sfondi bradizzati, le componenti bradizzate, l'icona di batte, tutte quante le future integrazioni di annunci che verranno via via importate dal codice di Brave. Praticamente, prenderanno ogni volta la versione di Brave, la puliranno di tutta questa roba e faranno questo nuovo browser. Ne avremo bisogno? Non lo so, penso proprio di no. Io da parer mio continuerò a guardare da lontano la vicenda e raccomando a tutti voi, se volete un'alternativa a Chrome, c'è il caro vecchio Firefox, non avete bisogno di altro, inutile stare a rincorrere altre soluzioni. Un discorso a parte va fatto, ad esempio, con Edge Browser, che integrerà alcuni servizi e avrà alcune ottimizzazioni rispetto a Chrome, ma tutti questi piccoli browser basati su Chrome, a sto punto, lascia da listare. Ma parliamo di distribuzioni Linux, l'argomento preferito da voi lettori. Luke ha realizzato una guida su come installare Ubuntu su un disc esterno, guida che prevede l'utilizzo di una macchina virtuale da convertire in installazione fisica. Dategli uno sguardo e ditemi che cosa ne pensate di questo metodo alternativo. Restando in ambito distribuzioni Linux, torniamo a parlare di Mint, la derivata più famosa di Ubuntu, adesso anche 100% snap free. Il team di Linux Mint ha dato in via libera la fase di beta testing pubblico per Linux Mint 20, pubblicando le relative ISO sui mirror principali. Se volete contribuire alla fase di testing, potete scaricare la distro e segnalare eventuali bug tramite gli appositi canali. Ho scaricato io la distro, l'ho installata per adesso soltanto in macchina virtuale, ho potuto constatare che effettivamente non è possibile installare SnapD, se non con alcune procedure che prevedono l'installazione di una versione specifica di SnapD, quindi questo è un altro discorso. Aspettiamo le note di riascio, aspettiamo il comunicato ufficiale di Linux Mint, perché hanno promesso che avrebbero pubblicato anche maggiori informazioni su come aggirare tutto, aggirare questa limitazione che adesso ha Linux Mint, vedremo come si evolverà la vicenda. Comunque per adesso, nulla di nuovo, è la solita Linux Mint, i temi non sono manco stati cambiati, e fra parentesi adesso nella versione beta è ancora presente, cioè è ancora possibile installare Chromium Browser, o meglio il pacchetto vuoto di Chromium Browser, perché se installate Chromium Browser non vi installa nulla, sempre per sta cosa degli SnapD. Andatevi a recuperare le puntate precedenti, ho gli articoli su Marcosbox per capire se non capite questo riferimento. Siamo quasi alla fine della puntata, quindi passiamo alle notizie più interessanti, perché come si sa il dolce si serve sempre per ultimo. Il team di KDE ha annunciato il rilascio di KDE Plasma 5.19, la parola d'ordine di questa nuova versione è Lucidatura. Praticamente in questa versione il team di sviluppo ha dato priorità a rendere Plasma più coerente, correggendo e unificando lo stile dei widget, per meglio integrarli con tutto KDE Plasma. Oltre a questo abbiamo un maggior controllo su Dextrope, con l'aggiunta di nuove opzioni di configurazione e impostazioni di sistema, cosa che in KDE non mancano mai, quindi abbondiamo sotto questo punto di vista, aggiungiamo altre cose perché erano già troppo poche, sono sarcastico se non lo avete capito. Infine è stata migliorata l'usabilità generale, rendendo Plasma e i suoi componenti più facili da usare, donando una esperienza complessivamente più piacevole. Devo dire che mi è nuovamente salita la scimmia sulla spalla che mi sta sussurrando all'orecchio, torna a KDE, forse la seconda ero fra qualche giorno, tempo permettendo, o forse no, perché devo ammettere, devo confessarvi che ultimamente sto così bene su Ubuntu 20.04, la sua visione di Gnome e Shell, che non riesco a trovare dei validi motivi per abbandonarlo. Forse sarà che sto invecchiando, forse sarà che sono guarito dalla giornita, non lo so, chi lo sa, lo scopriremo soltanto vivendo. Infine, chiudiamo con Gimp, che non è un insulto, questa la capiranno soltanto gli utenti affezionati al blog. Il team di sviluppo di Gimp ha annunciato il rilascio della versione 2.10.20 che porta con sé diverse nuove funzionalità, nuovi filtri, un miglior supporto ai PSD, funzionalità di ritaglio non distruttivo e naturalmente il solito lavoro di correzioni di bug. Sul blog trovate il link all'annuncio ufficiale con informazioni dettagliate su questo rilascio, quindi andate a leggere, ci sono anche tutte le immaginette e cose carine per meglio capire le nuove funzionalità. Bene, con questo ho concluso lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo in un prossimo episodio del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!